Musica Avvocato Carlo Della Penna, assessore al turismo, dunque questa buona notizia, diciannovesima bandiera blu per Vasto, c'è da essere soddisfatti? Sì, ampia soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, siamo contentissimi di questo ulteriore risultato che abbiamo raggiunto in termini turistici e il giorno 8 maggio andremo a Roma a ritirare appunto la bandiera blu e ci verranno poi descritte le aree in cui la bandiera blu... Ci saranno delle prescrizioni magari? Sì, come dicevamo prima poi in conferenza stampa abbiamo trattato anche questo, poi il giorno 8 maggio quando torneremo magari organizzeremo una conferenza stampa in cui spiegheremo alla città tutti i vari risultati raggiunti. Ecco, assessore, la stagione è praticamente all'inizio, già tantissima gente in questo weekend del Ponte del 1 maggio, ecco intanto chiederle che cosa si sta facendo per quanto riguarda la prossima stagione dal punto di vista degli eventi, sappiamo già del Siren Festival poi? Gli eventi saranno, per questa stagione poi abbiamo strutturato il calendario con più sfaccettature proprio per offrire, per dare un ventaglio di offerte appunto diverso sia in termini culturali come abbiamo già visto con i giovedì rossettiani, con il teatro Rossetti che ci hanno comunque aglietato nei fine settimana, nei weekend di festa, nei giorni di festa della nostra città. Quindi sotto il profilo culturale ci sarà una varia offerta che insieme al consigliere delegato Aglio Baccalà stiamo portando avanti. Per ciò che concerne l'offerta turistica in termini di eventi, sono da ultimare soltanto pochissime cose, però la maggior parte del calendario è pressoché fatto. A giorni spero che usciremo con l'offerta degli eventi che ci sono e poi quest'anno organizzeremo, struttureremo anche un'offerta di tipo sportivo perché è uno dei nostri turismi che possiamo offrire, quindi anche un turismo sportivo che ha già visto la partecipazione di migliaia e migliaia di bambini in vari tornei che ci sono stati nel calcio, nel basket, ce ne saranno altri anche internazionali di basket, quindi quando poi presenteremo il calendario faremo una descrizione un po' più dettagliata. Gli eventi sono quelli che hai citato tu, il Siren Festival ormai si pone come icona dell'estate vastese in termini musicali. stiamo portando avanti una serie di discorsi e di eventi di carattere musicali proprio perché vorremmo che Vasto diventasse una capitale della musica, perché con la musica si potrebbe riuscire ad intercettare un pubblico di diverse fasce d'età, quindi in modo trasversale, ma sicuramente è un linguaggio che avvicina i giovani insieme allo sport, quindi questa è la nostra idea che stiamo portando avanti. A breve usciremo con l'offerta ufficiale. E poi non c'è più soltanto il monumento alla Bagnante, ormai Vasto Marina, ma perché da quando Belen Rogatricchitz ha posato in bichini sullo scoglio una carta in più? Sicuramente il suo effetto mediatico è straordinario, quindi raggiunge dei risultati che neanche lontanamente possiamo fare noi con le nostre foto. Ho visto che ha postato su Facebook e c'erano più di 45.000 mi piace, quindi è sicuramente un veicolo in più che ringrazio Andrea Iannone, che è il primo promotore della nostra città e del nome di Vasto che va in giro per il mondo e sicuramente con Belen arricchisce ancora di più la nostra fama. Male non famo, speriamo che sia sempre comunque in termini positivi, sicuramente fino ad ora magari molte persone non conoscevano Vasto. Io dico sempre che non si finisce mai di farsi pubblicità, quindi più persone ci sono di questo calibro che parlano di Vasto, meglio è. Quindi tantissimi followers in più, come si dice in gioco, pure per Vasto Marina. Sì, speriamo che poi questi followers si traducano in turisti, e questo è un discorso che a breve poi affronteremo anche con gli operatori turistici dell'estate vastese, proprio perché una grande mano la possiamo dare noi, ma il lavoro che ci devono mettere quotidianamente è frutto loro. Quindi sicuramente un turismo si può fare, sperando che appunto l'obiettivo dell'amministrazione, che è quello di fare un turismo magari un po' più di qualità, venga raggiunto. Ne parlavamo pure prima sul discorso dei servizi che devono essere dati a delle persone che raggiungono Vasto per ammirare le proprie bellezze storiche, architettoniche, naturali, come la riserva naturale di Punta Terci. Però ecco, a questo va aggiunto voi un servizio da parte dei commercianti, da parte degli operatori turistici, che deve essere comunque impeccabile sotto tutti i punti di vista. Su questo possiamo migliorare. Grazie.